Centinaia di persone, moltissimi giovani, per i funerali di un giovane morto dell'assurda morte, tanto più quando recide una vita ancora tutta da vivere, qual è quella che occorre in un incidente stradale. La chiesa di Sant'Andrea non è stata sufficiente a accogliere al suo interno tutti quelli che hanno voluto dare l'ultimo saluto a Marco Mungai e a stringersi in un abbraccio di affetto e sostegno umano alla famiglia straziata del giovane. Che a sole 22 anni ha perso la vita alle prime luci dell'alba di domenica schiantandosi alla guida dell'auto che conduceva contro uno dei grandi alberi che costeggiano via Leadua. Molte persone hanno dunque atteso fuori della chiesa che uscisse il feretero ricoperto di fiori per l'ultimo viaggio di un ragazzo molto conosciuto a Pistoia. Studente universitario in economia politica dopo aver frequentato il liceo scientifico, Marco Mungai lavorava per pagarsi gli studi in un noto locale del compatto della sala, uno degli spazi centrali della movida pistoiese, fatto che ha contribuito con la passione per lo sport da sostenitore della Giorgio Tesi Group, presente all'esequio con i suoi dirigenti, e alla passione politica, il giovane era stato tra i fondatori della sezione pistoiese di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, ampliarne il giro delle conoscenze ancora più di quello che accada abitualmente per un ragazzo di questa età. Il fuori della chiesa proprio uno striscione come quello esposto domenica al Palacarrara ha sottolineato l'abbraccio nel quale gli amici accomunati della passione del basket hanno voluto aggiungere il loro cordoglio a quello manifestato da molte altre persone.